Vuol dire accusare in maniera grave una classe dirigente, quella di oggi, che probabilmente si ricandiderà anche domani, di cose che nulla hanno a che fare con l'attualità e con queste persone. Finisce sotto accusa un posto dell'assessore Marco De Matteis, che proprio non è andato giù ai consiglieri di centrodestra. Parole inferici, ma che allo stesso tempo aprono inconsapevolmente uno spaccato su una frattura forse incurabile nel centrodestra reccese. Il consigliere Giordano, infatti, volendo commentare le parole dell'assessore, con le sue parole però, sembra voler prendere le distanze e scaricare il centrodestra dell'era pre-Salvomini. Dimenticando però che proprio alcuni degli esponenti di quella destra oggi siedono accanto al prusunto nuovo, tanto difeso dal consigliere stesso. Non mancano allo stesso tempo le critiche nei confronti del sindaco Salvemini. Il botta e risposta è a seguito di un cittadino che sottolineava all'assessore alcune perplessità circa l'utilizzo e il quantitativo di piste ciclabili a Lecce. Corinoni, che è il cittadino, diceva che se continuare a fare piste ciclabili la prossima volta tornerà a vincere la destra. In risposta a questo, nell'ipotesi verosimile che il centrodestra torni a governare, veniva fatto questo parallelismo con il passato che, ripeto, offende un'intera classe politica senza motivo, l'unico che non si è assunto la sua responsabilità in qualità di sindaco, ma questo non è una novità, ma con il suo intervento addirittura ha vallato un modo di fare e dei toni eccessivi, è stato Carlo Salvemini.